Il nome e il cognome Ormai non basta più il nome e il cognome per individuare una persona. Mario Rossi o Giovanni Bianchi creano casi di omonimia nelle scuole e nei tribunali. E adesso non ha nemmeno senso privilegiare il nome del padre, appellandosi al detto latino Mater Semper Certa, «Pater Semper Incertus». Che cosa bisogna pensare? Commento «Bisogna pensare privilegiando non il passato ma la legge d'evoluzione che, essendo divina, va avanti comunque distruggendo gli archetipi del tempo umano miseramente provvisori». Grazie. 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 Grazie.